e si presenta con la numero 18 che è oro verde di Sicilia buongiorno a tutti è una granita che si chiama oro verde di Sicilia è un accoppiamento di pistacchio e mandarino questo prodotto sa pure, ci vuole molto lavoro sia perché c'è una parte che è di pasticceria quando c'è il croccante che vedete il croccante va fatto prima in giornato poi caramellato, poi passato è la pasta di pistacchio per avere il realizzo del gusto speriamo che per tutti va bene ora vediamo stai giudicate voi voi dalla giuria e signore ricorso tutto non offendendo i miei maestri il giudizio è superiore del popolo grazie al tempo vedo si stanno arrivando le coppe eccole, eccole, eccole eccole, eccole ma cosa ha fatto? è un croccante di pistacchio è un croccante di pistacchio si prende il pistacchio si mette al forno si dà una mezza cottura poi va frullato insieme mettiamo il mandarino naturalmente la buccia la buccia che poi va nel palato che essendo che ci sono gli arrumi lascia la bocca pulita dopo averlo mangiato non c'è bisogno dell'acqua dicono molte giusto? all'interno all'interno della pianeta c'è ancora un croccante che potete assaggiare credo che questa volta Nino Aiello sarebbe mangiata tutta non ha fatto colazione ma com'è? naturalmente non è che è la moda c'è molta gente che ora la sera la usa per cena la brioche la granita è troppo silenzio vedo che sono disgustati proprio ok allora ma esperitare dove l'hanno messa? l'hanno nascosta non vale così non la rubate ok chiedo ai ragazzi di portare via le granite è un po' non la rubate Grazie.